Allora andiamo al prossimo messaggio. Infatti sono due fratelli che scrivono sullo stesso soggetto. Gabriele, il sacramento dell'Eucaristia. Tu Giuseppe affermi che noi la comunione possiamo farla anche da soli, quando vogliamo, ma se non siamo sacerdoti non possiamo consacrare il pane e il vino. Quando Gesù dice fate questo memoria di me, non intende un ricordo puro e semplice, ma intende dire che nel pane e nel vino c'è la reale sua presenza, con la transustanziazione. Altrimenti San Paolo non avrebbe avuto la briga di dire nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, 27. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. E poi un altro fratello Carmelo ti chiede la stessa domanda. Vorrei che fratello Giuseppe mi spiegasse cosa ne pensa della transustanziazione, cioè della trasformazione reale del pane e del vino nel corpo e sangue di Gesù. Grazie. Guarda, quello che penso io non c'è nessuna importanza. È quello che pensa la Bibbia. Io ho una reputazione che leggo la Bibbia e credo a quello che c'è scritto. E cosa pensa la Bibbia? La Bibbia dice, Gesù dice mangiate questo il mio corpo. Sì. Basta. Io mangio il corpo di Gesù. Finito. Sì, ma tu hai detto che noi possiamo fare la... Transustanziazione, eccetera, azione, l'hanno inventata e non so neanche cosa vuol dire. Non so se è dal latino, dal greco, dal mongolo, non lo so. Ci hanno questi paroloni per farci sentire più imbecili di quanto siamo. Ok, però potete parlarmi in dialetto, per cortesia. In dialetto lo capisco. Ok, io stessi parlo. Allora, questa è una dottrina di una chiesa, va bene, ma parlando della Bibbia, allora, lasciamo da parte le dottrine dell'Evangelio dei Cattolici e così via. Parlando solo della Bibbia, tu hai detto che noi la comunione possiamo farla da soli. E come mai? Non deve essere santificata da un sacerdote? Dunque, ti rispondo a quello in un attimo. Prima voglio dire che, transustanziazione o no, le chiese sono divise. Chi pensa che diventa carne di Gesù, proprio il DNA, il gruppo sanguigno, eccetera, e chi invece dice no? Materialmente, sì. E invece chi dice invece no? Fate memoria di me, è una memoria. Quindi le chiese sono divise, ma le chiese, anche non solo i cattolici, ma i protestanti, ma i protestanti in se stessi, tra di loro, sono divisi su questo. I cattolici, dice, diventa carne e sangue, i protestanti dicono no. Però tra i protestanti ci sono molti protestanti che credono come i cattolici. Quindi bisogna picchiare le zucche insieme e vedere che suono si fa qui. Perché, per esempio, c'è la chiesa luterana, e anche Martin Lutero, ok, e quindi i protestanti doc, che credono nella transustanziazione, cioè che il pane e il vino diventano veramente sangue, veramente carne. Quindi questo qui, guarda, questi dettagli li capiremo in cielo. Beati voi quelli che riuscite a insegnare su queste cose, che riuscite a spaccare il cappello teologico in quattro, io non sono capace. Io, e neanche mi interessa, va bene. Comunque, quindi a ognuno, se gli piace la cruda, la prende la cruda, gli piace la cotta, la prende la cotta, per me tranquilli. Per me Gesù dice questo è il mio corpo, per me quello è il corpo di Gesù. Ma diventa proprio sangue, se tu lo tagli, il goccio, l'abbè, tu credi in quello, d'accordo. Io lo prendo e lascialo così. Al di là di quello non vado, quindi andateci voi, se avete tempo da perdere. Rimaniamo alla Bibbia e basta. Basta, lasciamo le cose tranquille. Il corpo di Gesù, io sto prendendo il corpo di Gesù. Basta? Sì, 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 sì. Ok. Va bene, sì, è chiaro. Quindi, cioè io sto abbracciando il fratello e quello per me, il fratello, mi rappresenta Gesù. Che poi diventi il DNA di Gesù, esattamente Gesù di Nazare, figlio di Maria, lo scopriremo in cielo, ognuno ci avrà le sue, possiamo lasciarlo così. Per me il fratello rappresenta Gesù, basta. Ma cazzo, con quella barba così, la faccia così brutta, un tipo come il fratello Giuseppe, sei sicuro che Gesù? Ma così dice la Bibbia, il fratello rappresenta Gesù, ciao, e non mi scocciare, va bene? Anche il fratello Giuseppe, va bene, rappresenta Gesù. Se poi Gesù, il DNA di Gesù, lo vedremo in cielo. Vediamo questi dettagli. Capisci, cioè, ti ricordi la storia che ha raccontato Richard Wumbranch? Quale? Quando le armate di Mohammed II, le armate di Mahometto II, circondavano Costantinopoli e che poi l'hanno distrutta, ed è scomparso il cristianesimo e la chiesa bizantina della zona. E mentre le armate musulmane stavano per scoccare gli ultimi attacchi e distruggendo, dentro Costantinopoli c'era un concilio religioso e si discuteva su temi che secondo loro erano più importanti degli islamici che li stanno distruggendo. E così erano. Primo, la chiesa era divisa su tre cose che per loro erano scioccanti, cioè, si azzannavano sul fattore che è questo. Quali erano il colore degli occhi della Madonna? Perché quando facevano, dipingevano i quadri e uno lo metteva a blu, quell'altro li faceva a marrone. Questo è il primo. Poi il secondo, qual è il sesso degli angeli? Ai, ai, ai. Ti rendi conto? Oggi fanno lo stesso. Terzo, terzo lite. Se una mosca cade nell'acqua santa, l'acqua santa diventa contaminata o la mosca diventa santa? E queste le risposte si sarà dalla storia. Gli erano andati i musulmani, gli hanno tagliato le teste, gli hanno violentato le donne, e hanno preso la chiesa più grande del mondo che c'era, quella di Costantinopoli, e l'hanno trasformata in tempio musulmano, tutt'ora è lì, eccetera. Cioè, oggi le chiese fanno lo stesso. Sì, è vero. Stanno a litigare, ma questo qui diventa il DNA di Gesù, oppure no? Mentre la gente sta andando all'inferno, mentre la gente non ha Gesù, mentre le chiese sono lì a marcire sulle casse da morte chiamate panche di chiesa, ascoltare un predicatore che predica agli uccelli. Va bene? Quindi, caro fratello, grazie per scrivere. Io vi consiglio tutti quanti che ci alziamo dalle panche, andiamo a evangelizzare e fare quello che Gesù ci ha comandato. Va bene? La Bibbia non parla, non è chiaro se diventa il DNA di Gesù, eccetera. Non è chiaro. Quindi vogliamo, per cortesia, fare gli affari nostri e concentrarci sulle cose basilari che è ama il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso, virgola aggiungo io, amalo andandolo a evangelizzare, andandolo a salvare, andandolo ad amare, andando a condividere un chilo di pane, andando a dargli qualche giacca vestita, un paio di scarpe, un paio di calze in più. Va bene? Sì, amalo. Cos'è che gli interessa uno che sta lì, che non c'è pane da mangiare, se il sangue diventa il DNA o no? Che cos'è che gli interessa? Per favore, portami un chilo di pane, per favore, mi puoi comprare un paio di scarpe, c'ho qua tre bambini senza scarpe, gli vuoi comprare le scarpe? Poi del DNA discuteremo domani, intanto questi stanno freddo. Viene a casa mia, ti dice la sorella, dice vedova, dice qua, ho sorella singola, divorziata, abbandonata, quello che è, con due o tre figli. Viene a casa mia, non ho riscaldamento, cosa vuoi che mi interessi a me, se diventa così o cos'ha? Io amo Gesù, per me il corpo, il pane è il corpo di Gesù e lo amo, sono pronto a morire per lui, non c'ho pane da mangiare. Cosa mi dice? Dice no, io voglio parlarti della transustanza, va bene? Amen. Ma devi rispondere all'altra domanda, dove tu dicevi che possiamo fare la comunione da soli quando vogliamo, senza un prete che consacra il pane e il vino? E' qui che casca l'asino, capito? Il punto non è, vedi questa storia di transustanzazione, c'è tutto fumo negli occhi. In realtà il trucco, il trucco qual è? E' che il prete deve mettere le mani sopra, deve consacrare, lì è il trucco. Perché se la domanda è posta male, non è diventa carne, diventa corpo di Cristo o no. Quello lì, secondo la tua fede, per me, io non sto litigare per quello. Scopriremo in cielo, si dettagli. L'importante è che quello è il corpo di Cristo, rappresenta Cristo, eccetera, tutto opposto. Il punto, l'inganno del diavolo è un altro, che ci vuole un prete per farlo diventare transustanzi alziato. E allora? E allora è sbagliato, non c'è nella Bibbia questo. Se ci vuole un prete cattolico o un pastore protestante perché miracolosamente diventa così, allora buonanotte, allora io devo diventare protestante per fare la comunione. Io devo diventare evangelico, devo diventare pentecostale, devo diventare, non so qual è la loro dottrina esattamente, devo diventare cattolico, se no non posso fare la comunione. Il trucco è lì, capisci? Perché loro dicono, se il prete non gli mette le mani non diventa corpo. E se il prete è cattolico. E il protestante dice, io cosa faccio? Cioè tu vai all'inferno. Lì è l'inganno del diavolo, capisci? Non è mica vero che ci vuole un uomo cattolico protestante tuo fratello Giuseppe che diventi il DNA di Gesù. Dove è scritto questo? Allora, prima di tutto la risposta, hai detto, è che non si trova nella Bibbia che devi chiamare un sacerdote per consacrarlo. Quando Gesù ha fatto la comunione... Non ci sono neanche sacerdoti nel Nuovo Testamento. Gesù ha detto, quando ha fatto la comunione, ha detto, fate questo ricordo di me. Ma non ha detto, prima chiamate qualcuno santo per santificarlo e consacrarlo. Ma ci mancherebbe altro. Fate questo ricordo di me. Certo, ma infatti Gesù, sapendo l'inganno del diavolo, sapeva che il diavolo è sempre attravestito da cattolico, da protestante, da preto, da pastore. Sapeva benissimo Gesù. Il diavolo si attravesta come gli pare. Ora si veste di apostolo. Attraverso quale apostolo si è attravestito il diavolo? Ha parlato attraverso di Pietro? No, Giuda. Ah, quando l'ha detto... Il diavolo si è attravestito da apostolo. Giuda? Sì. E cosa vuole che è attravestito da Papa, da arcivescovo o da pastore protestante? Il diavolo dice, oh, apre l'armadio. Dice, oggi quale maschera? E mi metto, oh, eccolo qui, un bel vestito da prete cattolico. Domani mi vestirò da pastore evangelico. Ieri mi sono vestito da Giuda. Domani mi vestito da falso profeta, Apocalisse 13, una grande croce, faccio una chiesa ecumenica mondiale. Cioè Gesù, sapendo che il diavolo avrebbe usato queste religioni statali, sono enti dallo Stato, queste religioni, cioè esenti dalle tasse, eccetera. A me le tasse me le fanno pagare, e come? Altro che esenti dalle tasse. Fra poco mi faranno esenti dalla vita, perché comincerò le persecuzioni. Mi esenteranno dalla vita fra poco. E Gesù sapeva che ci sarebbero stati questi circa questi chiamati chiese statali, e allora ha messo delle regole, ha messo delle regole, no? Infatti ha detto in Giovanni 16, 32, 33, ha detto, vi caceranno, vi perseguiranno, Giovanni 16, 2, vi spelleranno dalle sinagoghe, dalle chiese, e allora viene che chiunque vi uccidere chiederà di fare servizio a Dio. Capisci? Quindi questi qui che adesso ti fanno, ti benedico la comunione, ti uccideranno nel nome di Dio, in che modo? Daranno il tuo nome all'anticristo, domani. Ieri invece c'era l'inquisizione, ti torturavano, ti tagliavano le dita e il pezzettino per farti confessare che eri una strega, cioè domani ti daranno l'anticristo, va bene. Quindi Gesù sapeva che queste chiese sarebbero diventate ricettacue di demoni, e allora cosa succede? Io parlo della gerarchia, non parlo delle pecorelle dentro, per l'amore di Dio, andiamo a recuperarle. E allora ha messo delle regole, qual è la regola? Matteo 18, 20, regola numero uno, qual è? Dove due o tre sono riuniti nel nome mio, lì sono io in mezzo a loro. Ok, Galati 4, 6, lo spirito di Cristo nel nostro cuore. Cosa ho bisogno? I preti non esistevano nel Nuovo Testamento, è un'invenzione del diavolo, i preti non esistono. Perché? Perché tu sei una sacerdotessa, Angela, io sono un sacerdote, e tutti quelli che hanno Cristo, nell'atto che tu nasci di nuovo, sei un sacerdote in Cristo. Scrittura, Angela. Primo Pietro 2, verso 9. Leggere. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Sacerdozio regale. Gente santa. In contrasto, e santi. Siamo santi e sacerdoti. E santi mica sono solamente San Pietro e San Giovanni che gli hanno fatto le statue. E santi sono io e te. Ah, ma San Pietro era quasi perfetto. Sì, così perfetto che era innegato a Gesù tre volte. Così perfetto che in Galattica, capitolo 2, Paolo gli ha detto tu sei un ipocrita. Che perfetto, che perfetto niente. Era Gesù. Pietro non valeva niente. Neanche la statua che lo rappresentano. Era Gesù in Pietro che valeva tutto. Amén, amén. E Gesù dentro di noi che ci fa santi. Non è che siamo perfetti o non facciamo peccati. No, ma Gesù dentro di noi è santo. Io. Santifica. Io, anzi, non io. Il più piccolo fratello nella nostra chiesa di Radio Blast, il più piccolo, il più sgangherato, il più disgraziato, che uno come me, insomma, può fare la comunione, può benedire il pane e il vino allo stesso modo del più grande sacerdote con quattro croci attaccate al collo e cinque cappelli uno più lungo dell'altro. Amén. Va bene? Perché? Perché quel fratellino più scassato, il più disgraziato, il più indegno come me, a Gesù è un sacerdote. Dove è scritto? Primo Pietro 2,9. Nell'epistola di quelli che certe chiese lo chiamano il primo papa. Lui, Pietro, ha detto, siete tutti sacerdoti. Oggi i ciechi e i sordi nelle chiese non lo vogliono ascoltare. Devono seguire le dottrine che il diavolo gli ha dato. Se io andavo a fare la comunione, l'eucaristia, questo nome che nella Bibbia non c'è, il pane e il vino, no? Eucaristia è un nome che nessuno capisce. Latino, lingua sacra. Quando tu leggevi una Bibbia che non era in latino, ti uccidevano, ti bruciavano, ti torturavano, perché il latino è una lingua sacra. Il latino è una lingua maledetta. Chi l'ha detto che è una lingua sacra? È una lingua che hanno ucciso Gesù in latino. L'hanno ucciso in latino. I latini l'hanno ucciso. I nostri compaesani. Sì. La Bibbia è in latino. E sono tutte bugie del diavolo. Il latino non è una lingua sacra perché è una lingua maledetta. Perché? Perché i latini erano dei barbari, degli assassini, dei crucifissori, uccisori di Cristo, eccetera. È una lingua di redenzione, diventare la lingua dell'amore di Cristo. Allora, ho gridato abbastanza? Credo che hai risposto in abbondanza ed è chiaro. E non ce l'ho con te, fratellino, come si chiama? Gabriele. Gabriele e anche Carmela mi pare. Non ce l'ho con voi che voi, Dio vi benedica, voi siete fratelli dolci che ci scrivete con tanto amore. Ce l'ho col sistema mostruoso di queste religioni del diavolo che sotto il paravento della croce vanno in giro a imbrogliare la gente. Ieri li mettevano al rogo, li bruciavano vivi perché? Perché leggevano la Bibbia che non era in latino. Oggi vengono qui con le loro fandonie del diavolo che veniamo dai gorilla e dalle scimmie. Andiamo Angela, per cortesia. Ok. Grazie. 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 Grazie.